Un video molto molto veloce ragazzi, Mino Raiola è sotto osservazione, è stato operato d'urgenza all'ospedale San Raffaele, sono ore un po' di ansia per Mino Raiola, per le condizioni che ha e dicono che al momento è stato operato d'urgenza a Mino Raiola, questo vi mette anche lo screenshot qua poi se vi farò avere aggiornamenti sulle sue situazioni, se escono qualche news se vi farò avere aggiornamenti sulle sue situazioni